cari amici di motorsport.com ben ritrovati siamo nella sede di ferrari attività sportive gt e qui con me c'è il responsabile antonello coletta che ringraziamo della sua disponibilità ciao grazie a voi allora alle nostre spalle come potete vedere c'è una bacheca che potrebbe parlare da sola probabilmente e per incominciare a parlare un po di endurance e del nuovo programma del WEC con la 499p e antonello non danno un premio per le pole position no perché quello lì sarebbe stato bello secondo beh certamente partire nel campionato del mondo hypercar endurance con l'hypercar e fare subito una pole position è stato qualcosa di incredibile di unico una grande soddisfazione e direi un risultato anche un po inaspettato proprio per noi per primi certo lì diciamo un premio non ce l'ha dato nessuno però ce lo siamo dati a noi stessi a tutti i ragazzi che hanno lavorato a questo progetto che stanno lavorando a questo progetto e stanno facendo degli sforzi incredibili perché è veramente poco il tempo che abbiamo avuto per sviluppare questa macchina noi siamo scesi in pista la prima settimana di luglio abbiamo omologato la macchina alla fine di dicembre dunque è veramente un miracolo quello che è stato fatto quello che stiamo facendo il percorso è lunghissimo la strada da percorrere ancora è veramente importante però dobbiamo essere molto orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto fino ad oggi e soprattutto di come lo abbiamo ottenuto proprio perché come ripeto il tempo è stato veramente poco pole all'esordio seguito da un seguita da un bellissimo podio che poi si è ripetuto anche a portimao eppure a spa quindi comunque è un bel percorso che alle prime armi non può che fare invidia sicuramente la domanda è quanto hai dovuto tenere a freno diciamo l'entusiasmo perché voi eravate partiti dicendo dobbiamo partire umili con calma eccetera però arrivano subito questi risultati quindi sicuramente l'asticella bella alzate da soli quello è vero però io credo che proprio questi risultati arrivati come dicevo prima nel caso della pole position inaspettatamente sono proprio la testimonianza di come è stato approcciato questo progetto con tantissima passione tantissima competenza perché le professionalità che abbiamo all'interno della nostra azienda che hanno i nostri partner sono veramente importanti ma anche l'umiltà che contraddistingue un po da sempre la nostra squadra tutti noi credo che abbia giocato e stia giocando un ruolo importante è evidente che dopo le prime tre gare due terzi posti un secondo posto una pole una quasi pole a spa perché comunque con tutte e due le macchine potevamo essere in pole position c'è stata tolta una per un track limit l'altra con Molina non siamo riusciti ad ottenere il giro migliore perché ha trovato una macchina davanti ma era molto più veloce di tutti tutti gli altri in pista ecco bene tutto questo è chiaro che crea aspettativa no però vi posso assicurare che all'interno della squadra sappiamo bene quanto sia difficile quello che che ci aspetta e dunque continuiamo a lavorare con con molta non posso dire tranquillità perché proprio perché tutto il mondo adesso si aspetta sempre di più però con molta umiltà quello di sicuro e con la consapevolezza che dobbiamo fare ancora molto sebring portima o spa tre gare completamente diverse c'è qualcosa che ti ha sorpreso nell'arco di queste tre gare e qualcosa che invece ti aspettavi ma non hai visto ma diciamo che tutti temevamo tantissimo sebring dal punto di vista affidabilistico ma già dai test che abbiamo fatto durante l'inverno ci siamo resi conto che portimao era una pista molto complessa da quel punto di vista forse ancora più insidiosa di sebring so che potrà sembrare strano per gli addetti ai lavori ma vi assicuro che è così e in effetti il problema meccanico più importante che abbiamo avuto fino ad oggi lo abbiamo avuto proprio portimao per cui è stata se vogliamo da una parte una conferma di quello che avevamo sospettato e dall'altra una sorpresa perché tutti temevamo molto di più sebring di portimao detto questo giusto ogni gara è una gara a sé tre circuiti completamente differenti io avevo detto all'inizio della stagione che soltanto a spa avremmo cominciato ad avere la giusta percezione dei valori in campo credo che spa anche a causa delle classiche condizioni meteorologiche ci ha fatto capire solo in parte il valore di tutti ma non vorrei neanche sminuire troppo il valore di chi degli altri competitor toyota a parte perché vi assicuro che sono molto molto competitivi e dunque non non è così scontato quello che stiamo vedendo cioè oggi la ferrari la seconda forza in campo ce lo dice la classifica ce lo dice ce lo dicono i risultati ma abbiamo combattuto in tutte le corse anche con gli altri e non solo con toyota anche contro voi stessi per un certo punto di vista diciamo cioè alla ricerca del limite comunque nel cercare di scoprire qualcosa perché di fatto ogni volta che andate in pista lo dite sempre imparate qualcosa allora su questo non c'è alcun dubbio noi impariamo la nostra vettura ogni giro che facciamo non solo in prova ma soprattutto in gara è chiaro che se noi avessimo sulle spalle un anno un anno e mezzo di test la sicurezza che avremmo nel gestire la nostra macchina sarebbe completamente differente non potendo fare tutta l'esperienza necessaria per motivi di tempo ci ritroviamo a farla in gara per cui questa è una delle delle prerogative del nostro team di oggi cioè migliorare noi stessi nella conoscenza della vettura e nella gestione delle strategie delle gomme del di tutto quello che oggi è necessario per raggiungere il risultato le gomme visto che le citate purtroppo spa siamo incappati in quello che era il grande timore di tutti cioè le problematiche dell'entrare in pista a gomme fredde purtroppo una ferrari è finita a muro per questo motivo tu a fine gara ti sei fatto sentire perché comunque hai detto la tua è arrivata una risposta della fia è un paio di giorni fa che praticamente ha rimarcato il discorso della sostenibilità e anche ha aggiunto un'altra cosa che secondo me fa riflettere ovvero anche altri campionati utili non utilizzano scusate le termocoperte o comunque i forni per riscaldare i pneumatici hai una contro risposta a questa giustificazione abbiamo purtroppo avuto un brutto incidente a spa ma non solo noi perché il giorno prima l'ha avuto la toyota nei test lo hanno avuto altri noi anche a sebring molte vetture gt hanno avuto lo stesso problema abbiamo ritardato la partenza della gara perché le vetture gt non riuscivano addirittura con i gentlemen al volante a stare nel gruppo nel giro di lancio io mi sono limitato a dire che è ovvio che come sempre la ferrari rispetta le regole le regole sono uguali per tutti ma questo non vuol dire che non ci siano situazioni di pericolo mi sto chiedendo se ma non solo io ci lo stiamo chiedendo un po tutti poi il fatto che io lo abbia manifestato e gli altri no non sta a me andare a vedere perché per come ma vi assicuro che tutti pensiamo la stessa cosa credo che sia sciocco nel nome della sostenibilità che comunque importantissima però cambiare una regola quando si hanno delle gomme che sono nate per lavorare con partenza a caldo perché in passato si correva con le gomme che partivano a temperature naturali diciamo no in molti campionati si corre anche adesso così ma le gomme sono nate e fatte e sviluppate per correre così credo che nulla in contrario ad applicare questa regola ma sarebbe stato forse meglio farlo a partire dal 2024 dando anche la possibilità di a chi costruisce le gomme di produrre un pneumatico che potesse partire a temperatura fredda poi la sostenibilità è un tema importante e infatti la ferrari è l'unico l'unico team attualmente iscritto al campionato del mondo web che ha ottenuto la certificazione 2121 e noi produciamo dei report dopo ciascuna gara proprio a testimoniare quanto co2 è stato emesso e che cosa è stato fatto per su questo su questo tema dunque diciamo che non abbiamo bisogno di di lezioni da nessuno su questo proprio perché siamo l'unico team che sta andando in quella direzione forse sarebbe stato anche una bella idea dire a tutte le squadre di ottenere la stessa certificazione e magari rimandare di un anno l'applicazione delle regole a proposito di regolamenti una delle novità di quest'anno è che non si può più parlare di BOP il balance of performance che è quel sistema diciamo per provare a equilibrare le prestazioni delle vetture in pista e non ti chiedo cosa ne pensi del BOP attuale però ti chiedo se secondo te verrà cambiato perché c'è chi dice che verrà cambiato prima di Le Mans c'è anche chi dice che non verrà cambiato prima di Le Mans perché c'è un accordo interno vostro con la FIA team non è ben chiaro fatto sta che qual è la tua sensazione non è ben chiaro perché non se ne può parlare per cui quello è il motivo per il quale non è ben chiaro in realtà è molto cioè tra gli addetti ai lavori è molto chiaro la mia sensazione onestamente non ho idea perché camminando nel paddock e incontri delle altri colleghi piuttosto che qualcuno dei tuoi colleghi invece della stampa e dicono ho sentito che si cambierà BOP ah pare che non lo cambino in realtà noi siamo in attesa di sapere se succederà qualcosa nulla sappiamo in proposito vedremo cioè non non possiamo entrare chiaramente nelle stanze della federazione sapere cosa stanno decidendo sappiamo solo quali sono le attuali regole e per cui siamo in attesa e vedremo perfetto allora in vista di Le Mans al di là del fatto che la Toyota sappiamo tutti che è riferimento ci si prova a raggiungerla c'è qualcun altro che diciamo ti fa un po paura perché comunque la Cadillac sta andando molto forte e anche la Porsche ha dimostrato di avere comunque una macchina competitiva al netto ovviamente di particolari problemi di consumi benzina gomme o problemi tecnici come hanno avuto a Spa come ho accennato prima non dobbiamo sottovalutare nessuno noi abbiamo lottato con Cadillac a Sebring abbiamo lottato con Porsche a Portimao a Spa Cadillac è andata molto bene poi molte molte differenze che nascono durante la gara sono anche frutto di scelte diverse di gomme di strategie ma questo non deve farci non deve trarci in inganno oggi se è vero che la Toyota è il riferimento per tutti e dunque è un gradino soprattutto io continuo a dire che Ferrari Cadillac e Porsche nelle tre gare hanno combattuto anche se noi siamo sempre stati davanti ma non è stato facile per cui questa è la testimonianza che anche loro hanno un'ottima vettura Peugeot è un po indietro anche se proprio a Portimao tra l'altro hanno avuto delle prestazioni più confortanti ma in ogni caso ho visto una Porsche raggiungere delle velocità abbastanza importanti a Spa ho visto una Cadillac è molto consistente dunque dobbiamo fare attenzione a tutti e poi nessuno dorme cioè come noi siamo qua a cercare di sviluppare la nostra macchina gli altri sono a casa loro a cercare di fare lo stesso lavoro per cui e Toyota a sua volta avverte che non è più come prima no ci sono altri competitor che che si avvicinano ecco tutto questo sarà da scoprire a Le Mans Le Mans è completamente diversa è una situazione tutta da verificare su un circuito completamente atipico molto veloce che conosciamo tutti quanti molto bene per cui vedremo non non dare nulla per scontato comunque a proposito di sviluppi ti chiedo anche in ottica futura perché bisognerà cominciare a pensare anche al 2024 voi state raccogliendo dati analisi e quant'altro dopo Le Mans avrete già più o meno un quadro della situazione per provare a intervenire ragionare studiare qualcosa beh chiaramente è innegabile che tutti cerchiamo di sviluppare quello che possiamo sviluppare nell'ambito delle regole sono cinque gettoni che possiamo spenderci è chiaro che prima di spenderci un gettone vorremmo capire bene la nostra macchina e cosa necessita di più che cosa dobbiamo andare a migliorare oggi francamente è un po' complicato poterlo dire è evidente che ci stiamo facendo delle idee tutti i giorni impariamo qualche cosa come abbiamo detto e dunque cercheremo di accelerare anche questo processo di comprensione per poi riuscire a mettere sul tavolo quelle che potranno essere le idee di sviluppo futuro per la nostra macchina è chiaro che cominciamo ad avere delle strade più chiare di fronte a noi però è ancora un po' prematuro per concludere visto che stiamo parlando di UEC ti chiedo anche come è stato vivere questa vittoria in GTE AM che ricordiamo la 488 è all'ultimo anno di vita in questa categoria e a SPA ha vinto quella di AF Corsa con Alessio Rovera pilota ufficiale di Ferrari già da un paio d'anni e soprattutto la nuova arrivata, l'Ilu Vadu anche lei pilota ufficiale Ferrari? beh allora direi che è stata una grande emozione una grande soddisfazione abbiamo scommesso sull'Ilu alla fine dell'anno scorso tra parecchie sorprese nel mondo del motorsport e invece abbiamo avuto ragione l'Ilu è andata vicino alla vittoria insieme ad Alessio e a Perez Compact già a Portimao sono arrivati in volata sono stati molto sfortunati a Sebring perché purtroppo è una gara dove tra l'altro erano molto competitivi l'incidente di Perez e di inizio gara le ha tagliati fuori ma poi finalmente a SPA sono riusciti a cogliere la vittoria la prima vittoria di una ragazza nel campionato del mondo UEC dunque siamo molto orgogliosi che questo sia avvenuto a bordo di una Ferrari abbiamo visto un podio con 4 ragazze in occasione di Portimao dunque sono tutti segnali importanti ma ritornando all'oggetto della domanda noi siamo nell'hypercar ma non abbandoniamo assolutamente le altre classi nel GTE abbiamo molti clienti che corrono nel GTE abbiamo alcuni piloti ufficiali abbiamo i nostri team impegnati è chiaro che non vogliamo neanche perdere quello che è il campionato GTE è evidente che noi credo lo abbiamo interpretato secondo anche lo spirito di quello che è la classe AM vedo degli altri equipaggi molto non proprio tutti così AM però lo sapevamo noi cercheremo di continuare a fare del nostro meglio anche lì insomma abbiamo vinto l'ultima gara abbiamo sembrato i secondi a Portimao speriamo di fare bene alle mani nel proseguo della stagione e poi alla fine dell'anno vedremo grazie Antonello e in bocca al lupo per il proseguo della stagione grazie grazie a tutti